Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha iniziato il suo tour a sostegno della candidata alla presidenza Sara Marcozzi con una tappa sul Mona. Tra le dichiarazioni rilasciate, anche una risposta ai risparmiatori e alle loro associazioni. I provvedimenti del governo a favore dei truffati delle banche ci sa dire qualcosa? Non solo c'è un miliardo e mezzo di euro per coloro che sono stati truffati dalle banche, ma anche dal governo del PD in questi anni. Ma dico anche che nelle prossime ore approveremo nel decreto semplificazioni una norma che limita pesantemente il pignoramento delle case a carico di quelle persone che hanno crediti con la pubblica amministrazione, che sono in difficoltà. Il 9 febbraio incontreremo i truffati delle banche e le loro associazioni che le rappresentano e li incontreremo per poter festeggiare insieme il miliardo e mezzo di euro che questo governo ha stanziato per aiutarli dopo che con banche etruria e banche venete il PD li aveva mandati sull'astrico. Insieme a lui è giunto in città il senatore Gianluigi Paragone, giornalista membro della commissione Vigilanza Rai. Quali saranno le priorità del nuovo presidente della regione secondo lei per rilanciare l'economia abruzzese? Ma intanto si inserirà dentro quelle che sono i programmi del cambiamento nazionale e ovviamente le priorità di questo governo sono puntare sul lavoro. E poi penso che qui ci sia un grande discorso legato all'infrastruttura, ho visto anche questi cartelli di Toto che saluta il non aumento dei rincari. Forse farebbe bene ringraziare per primo Toneinelli perché grazie a Toneinelli, grazie al nostro ministro che gli italiani non solo qui non pagheranno un aumento dei pedaggi. Tra i temi toccati quello della sanità che per Di Maio diventerà virtuosa quando i manager si nomineranno per merito e non per amicizie politiche. Quello della geografia giudiziaria che dovrà ridare i presidi di garanzia al territorio. Riguardo alla Snam sono previsti incontri con i comitati per tutelare l'incolumità dell'area peligna. Reddito di cittadinanza a 200.000 cittadini abruzzesi. Grazie.